Oggi cuciniamo all'IKEA! Yeah! Ciao a tutti! Benvenuti nella cucina reale dell'IKEA! Oddio, siamo sul tavolo dell'IKEA! Vi facciamo vedere? Aspettate! Aspetta, aspetta, giro io! Aspettate, guardate! Voilà! Guardate che bella la vostra IKEA! Che oggi non si vede e vabbè, palle di fico d'India che spuntano così! Allora ragazzi, ciao! Oggi vi facciamo vedere come due creativi riescono a cucinare anche all'IKEA! Mi raccomando creativi, non cre...altro! Creativi! Bene, sì! Oggi un dolce che tutti quelli che seguono il mio cuore e la cappa potranno sperimentare all'IKEA! Un gelato buonissimo che all'IKEA non vendono, ma che noi sappiamo fare per voi! Guardate un po' cosa serve! Bene, e quindi siamo qua all'IKEA! Facilissimo preparare questo gelato! Allora, si prende un caffè, si zucchera naturalmente! Vedete come sta facendo la nostra ombrettina assistente perfettina! Si mescola! Bene, qui non ci vuole una laurea! Ecco, si prende il gelato appunto che esce dalla macchinetta insieme nel cono! Si versa nel bicchiere, l'apposito bicchiere, tutto quanto, tutto quanto, sì sì sì! Brava! Si lecca il cucchiaino naturalmente e si versa in abbondanza il caffè caldo sul gelato! La quantità la scegliete voi, il cono magari messo là non lo fate e poi gustate con piacere! Vedete? Bene, bene, bene! Facile e divertente! Provatela! Bene, avete visto? È un bellissimo canale dove sicuramente l'ingrediente che non manca è la spensieratezza! E' sicuramente la golosità perché noi anche quando siamo fuori non ci accontentiamo mai di quello che ci propinano ma dobbiamo dare sempre quel guizzo in più, quel tocco in più! Allora, da oggi prendete il cono ai vostri figli, svuotatelo, a loro date la ciao! E voi prendetevi quel gelato che c'è all'interno, versato nel bicchiere e fate la stessa cosa che abbiamo fatto noi! Vedrete quanto è buono! Benissimo! E quindi noi continuiamo a mangiare! E noi ci rivediamo la prossima volta sempre nella nostra cucina virtuale ma sulle vostre tavole! Ciao!